Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo i miei consigli di formazione in un'analisi partita per partita per il turno 18 al Fantacalcio. E vi anticipo già un turno molto stressante, in quanto iniziamo venerdì, ore 20.45, subito un big match, Napoli contro Juventus e terminiamo solo il lunedì sera, quindi turno stressante e del quale sicuramente il giorno che schiereremo la formazione, ovvero venerdì, avremo poche informazioni per la domenica e pochissime per il lunedì, quindi dobbiamo stare con gli occhi non aperti di più. Per cui iniziamo subito bene lasciando anche un bel like, come sempre porta fortuna la vostra squadra al Fantacalcio e in particolare tutti coloro che lasciano mi piace vincono la giornata, quindi voglio vedere tantissimi like. Vi invito anche ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche, che è fondamentale per non perdersi tutti i contenuti che usciranno su questo canale, in quanto attivando la campanella delle notifiche vi arriverà appunto sul vostro cellulare una notifica su quando escono i miei video, se rivedete il video interessante cliccate tranquillamente sulla notifica e lo guardate, se non lo rivedete interessante basta semplicemente ignorare la notifica. È gratis, questa funzione non costa nulla, è una funzione che vi consiglio per non perdervi i video. Poi vi ricordo che sono aperti anche gli abbonamenti al canale, partiamo da soli 99 centesimi fino a maggio, ci sono tanti vantaggi, tra cui ad esempio la risposta prioritaria e garantita da ogni live, ma anche il file aggiornato delle fasce durante tutto il calciomercato, per cui utilissimo per gli scambi ma anche per l'asta di riparazione. Poi vi invito a scaricare anche l'app OneFootball, la migliore app per restare aggiornati su tutto il mondo del calcio e di conseguenza anche del Fantacalcio. Cosa trovate su OneFootball? Trovate gli aggiornamenti in temporale delle partite, statistiche, punteggi, incontri, highlights delle partite di Serie A, ma tantissime notizie come ad esempio anche il calciomercato. Particolarissima la funzione di inserire i nostri giocatori del Fantacalcio nella lista dei preferiti e l'app CBL Notifica per quei giocatori, per cui saremo aggiornati su tutto ciò che gli succederà. Quindi funziona importantissima e da non sottovalutare. Trovate il link per scaricare questa app gratuitamente in descrizione. Partiamo ora con la nostra analisi. Prima partita, come già spoilerato, venerdì, ore 20.45, stadio, Diego, Armando, Maradona di Napoli, Napoli-Juventus, una partita che può essere anche fondamentale, anzi è sicuramente fondamentale, per gli equilibri di questo campionato e può aprire scenari interessanti in ottica corsa-scudetto. Si tratta di un big match, cerchiamo di dare anche un'interpretazione a questa partita, interpretazione che ce l'ho. Per me la Juventus è una squadra che partirà forte, cercherà subito il vantaggio per cercare di chiudersi il prima possibile, altrimenti Massimiliano Allegri, riconoscendolo, cercherà lo 0-0. Toccherà al Napoli far saltare questa strategia e può farlo, visto l'enorme potenziale offensivo di questa squadra, per cui mi aspetto comunque una gara dei gol contenuti, quindi non tantissimi gol, per cui gli occhi ai portieri sono comunque validissime scelte. Per quanto riguarda i difensori, Kim, Di Lorenzo, Rachmani e per la Juventus Danilo e Bremer, per me sono super affidabili e si possono mettere, anche se le due squadre vanno a subire due gol a testa. Più dubbi sicuramente su Alexandro e anche su Mario Rui, che non sappiamo nemmeno se sarà titolare al 100%, forse può giocare anche Olivera, attenzione, però comunque non impazzisco per nessuno dei due, per questa gara, soprattutto in considerazione che il fatto che potrebbe giocare Federico Chiesa dall'inizio, ma anche se parte dalla panchina Chiesa, un giocatore determinante, per cui non mi fido tantissimo della coppia Mario Rui-Olivera per questo turno, quindi possiamo farne anche a meno. Zona centrocampo, nel Napoli sicuramente, do fiducia a Kvaraschelia, giocatore che tutti noi dobbiamo mettere al 100%, ma anche Matteo Politano, viene da un rigore sbagliato, ma io gli do comunque fiducia, non fa nulla anche se non dovesse essere più rigorista, ricordiamoci comunque un giocatore che sa segnare la Juventus e ci ha segnato lo scorso anno, ma soprattutto è un giocatore importantissimo e inoltre un fuori ruolo. Meno fiducia a Zielinski, che è un giocatore che vive momenti di forma, quando sta bene segna contro chiunque, in questo momento non lo vedo benissimo, per cui lo valuto in base alle alternative, per carità, si può schierare Zielinski, non è un giocatore sconsigliato, però in questo momento, se c'è qualcosa di un po' più costante, qualcosa che ha un po' più di certezza, un po' più di probabilità di portare anche un bonus, preferisco quest'altro giocatore a Zielinski. Capitolo, Zambaghi, Salobotka, per me sono giocatori da 6-6,5, il 6 ce lo possono portare anche in caso di sconfitta, per cui sono dei buoni regolaristi per questa partita, se cerco il bonus, guardo altrove, vado verso altri lidi. Per quanto riguarda la Juventus, zona centrocampo, fiducia assoluta a Chiesa, sia dall'inizio che dalla panchina, perché dalla panchina può essere quel giocatore che spacca la partita, o dall'inizio può essere appunto quel giocatore su cui punta Allegri, per fare quella strategia che abbiamo detto, cercare subito il gol per poi chiudersi in difesa. Kostic, l'altro giocatore di centrocampo che possiamo schierare senza farci troppi problemi, più problemi per gli altri trenomi, Fagioli, Locatelli, Rabiot, a differenza di Zambaghissà e Lobotka, sono giocatori che in caso di sconfitta non ci garantiscono il 6, non sono buoni regolaristi, per cui vado un po' con i piedi di piombo su di loro, non li schiererei al 100%, li valuterei sicuramente tantissimo in base alle alternative, se cerchiamo i bonus sicuramente, anche qui andiamo verso altri lidi, per me sono giocatori però ottimi per la panchina. Capito gli attaccanti, non c'è moltissima scelta, perché comunque nel Napoli al fantacalcio si gioca con un solo attaccante che è Ozymane. Per quanto riguarda la Juventus, l'unica alternativa in questo momento è Moise Ken, visto che Blaovic è ancora in via di recupero, cercherà di recuperare per Napoli, però vediamo un po' come si evolve la situazione. Ozymane per me deve avere fiducia al 100%, non dobbiamo avere dubbi su di lui. Per quanto riguarda Di Maria, c'è il dubbio che possa anche non giocare, perché non è stato benissimo, per cui va valutato bene. Se gioca dall'inizio si può schierare, se non gioca dall'inizio ragazzi io non lo schiero, non mi prende il rischio di inserirlo dalla panchina, perché comunque potrebbe entrare in una fase di partita anche abbastanza confusa o eventualmente disperata. Per quanto riguarda Milik, è un altro giocatore che sta bene e gli do assolutamente fiducia, anche perché è un ex, e sappiamo bene, il gol dell'ex è sempre dietro l'angolo. Passiamo alla seconda partita che vede affrontarsi la Cremonese e il Monza. Un big match, possiamo dire, della scorsa Serie B. L'ambiente Cremonese è sicuramente un ambiente sfiduciato. Ancora zero vittoria, però attenzione, quando invece lo aspettiamo potrebbe arrivare questa fatidica vittoria e una sconfitta anche pesante per la salvezza contro il Verona, una Cremonese che è scivolata all'ultimo posto in classifica. Affronta il Monza, Monza che viene anche da un buon pareggio. Contro l'Inter, Monza che riesce a far però meglio fra le mura amiche, per cui attenzione, può essere una gara con non troppi gol e soprattutto magari potrebbe essere finalmente la gara che la Cremonese si porta a casa. Però, in ottica fantacalcio, ad oggi, a priori, cosa possiamo dire? Che Valeri è l'unico nome da schierare al 100%, l'unico che ci dà qualche forma di garanzia. Potremmo eventualmente azzardare un Ghiglione, un Ferrari, un Bianchetto, un Lociosvili in difesa, nel caso in cui, appunto, la Cremonese rischia a portarsi a casa la partita, comunque finisca con uno 0-0, loro escono con il loro 6, 6 e mezzo, per cui se non si hanno grosse alternative, è un rischio che si può correre. Rischio da non correre, però, sono i centrocampisti Meteasca, Sibar e Pickel, per quanto riguarda l'attacco. Occhere che leggero ballottaggio, dovrebbe giocare sicuramente De Sers, sono due attaccanti che si potrebbero schierare al fantacalcio, però, ragazzi, vanno valutati in base alle alternative e in questo momento preferisco nettamente l'attacco del Monza, composto da Caprari e da Petagna. Per quanto riguarda il Monza, Di Gregorio può essere una buona scelta, non mi aspetto che vada a subire tanti gol, per cui, attenzione, può essere un buon portiere. Izzo, li do fiducia dopo una buona prestazione comunque contro l'Inter e do fiducia anche a Pablo Marì. E sicuramente ai due esterni, Birindelli e Carlos Augusto. Totale fiducia a Pessina, anche se non gioca Petagna dall'inizio, e anche il rigorista di questa gara, per il Monza ovviamente, per quanto riguarda l'attacco, fiducia a Caprari, fiducia anche ad Andrea Petagna e attenzione sulla tre quarti a Ciurria, che può essere una buona scommessa per questo turno, però lo hanno in pochi al fantacalcio. Passiamo ora a Lecce contro Milan. Il Lecce, in casa, lo abbiamo detto più e più volte nelle nostre analisi, partita per partita, è una squadra tosta, una squadra che ha perso solo due volte, contro la Juventus e contro l'Inter in questo campionato, e che ha vinto contro squadre molto, molto valide, come la Lazio e come l'Atalanta. Per cui non sarà una gara facile contro il Milan, anche se lo storico di questo match ci dice che negli ultimi 20 precedenti, Lecce ha vinto solo una volta contro il Milan, 8 pari e 11 vittorie per il Rossoneri, quindi una gara da X2, anche per valori messi in campo. Però per me non sarà una gara facile per il Milan, una gara anche con pochi gol, considerando anche la buona fase difensiva del Lecce. Per cui attenzione, magari Falcone, questa è una scelta consapevole, un portiere che per me può subire due gol in questo turno, ma che ci porta a casa almeno il 6,5 da modificatore. Buone scelte da mod, eventualmente rischiose, sì, potrebbero essere Baschiro, Tom Titi, e evito i terzini, Genray e Gallo, soprattutto Genray che affronterà Rafa Leao. Salto, la linea di centrocampo, composta da Gonzalez, Hulman e Blind. Nonostante Hulman dei big match, si esalta in particolar modo al Fanta Calcio e riesce a portare anche un 7, un 7,5. Però tanto dipenderà anche dalla prestazione in generale del Lecce e dal risultato che porterà a casa. La certezza in questo momento è strepezza che comunque un fuori ruolo gioca in attacco come centrocampista, ma soprattutto è rigorista. Quindi è il vero consigliato del Lecce di sempre. Non solo di questa giornata, è sempre lui il vero consigliato. Attenzione a Colombo, può essere una buona scommessa in quanto ex di giornata, o meglio è anche ora di proprietà del Milan. Per quanto riguarda la squadra rossonera, do fiducia a tutta la difesa. Saranno loro a giocare perché il Milan in questo momento non ha ricambio, comunque non ha ricambio all'altezza. Per quanto riguarda il centrocampo, ricordiamo, squalificato Tonali, giocherà Pobega al suo posto. Pobega, chi lo ha, volendo lo può anche mettere, però considerando che ha segnato all'ultima, non è un giocatore che segna ogni partita nonostante sappia bene inserirsi, per cui cercherei di evitarlo. Benazer, giocatore da 6-6,5, se cerchiamo il bonus andiamo verso altri lini. Per quanto riguarda Salema Kers e Diaz, sono in ballottaggio, perché potrebbe giocare De Ketelare, può giocare anche Messias. Allora, se trapelano informazioni che appunto saranno loro due a giocare, per me vanno schierati al 100%. Brain Diaz, anche se parte dalla panchina, io lo vado a schierare. De Ketelare, per me, solo se gioca dall'inizio, andrebbe schierato. Per cui, se parte dalla panchina, non lo schiero, anche perché non lo sto vedendo bene, lo sto vedendo ancora veramente molto molto mollo, per cui non lo rischierei in questo momento, perché ci fa più danni che altro alla nostra squadra al fantagalcio. Magari ci perdiamo il primo bonus di De Ketelare, però non fa nulla, perché comunque in questo momento è troppo rischioso. Messias, non è stato benissimo, viene da un infortunio, cerchiamo di capire nelle prossime ore, anche poi con la conferenza stampa di Mr. Pioli, se potrà giocare dall'inizio, se gioca dall'inizio, ragazzi, Messias è un giocatore da questa partita. Da queste partite sappiamo che un giocatore che colpisce alle piccole, non colpisce alle grandi e contro le piccole, che Walter Junor Messias va messo. In attacco le Aogirud, credo non vadano messi in discussione anche per la stagione che stanno facendo. Vanno sicuramente schierati contro il Lecce. Passiamo ad Inter contro Verona. L'Inter che viene da un pareggio, 2-2 contro il Monza, del Verona che ha vinto finalmente, è tornata alla vittoria, però non è uscita dalla zona retrocessione, vittoria contro la Cremonese. Pronostico sicuramente a favore dell'Inter, squadra di casa, partita tostissima quindi per il Verona, dove non troviamo nessun giocatore consigliato, al massimo rischiabile un Lazovic, ma parliamo comunque di un rischio in questo caso, perché è un giocatore che si fa sempre il suo da nel suo piccolo. Qualche certezza, però in questo momento va valutato molto bene il suo utilizzo. Gli altri giocatori del Verona sono anche abbastanza rischiosi, oltre che, come possiamo ben vedere, troviamo tanta confusione, perché tanti giocatori, secondo Fantecalcio.it, all'80%, perché ci sono veramente tanti ballottaggi, per cui non sappiamo veramente chi possa giocare. Potrebbe essere questa la difesa, ma potrebbe essere una difesa anche completamente differente, per fare un esempio. Per quanto riguarda l'Inter, Inter che ha giocato anche in Coppa Italia, quindi un'occhiata alle informazioni le possiamo dare, dove abbiamo visto ha giocato De Vrij, ha giocato anche Bastoni, per cui sicuramente troviamo Skriniar e Acerbi, fiducia al 100% a questi due nomi, non fatevi ingannare da quel 60% ad Acerbi, perché se non ha giocato in Coppa Italia, gioca sicuro in Serie A, in campionato, attenzione, Danfis ha giocato in Coppa Italia, quindi potremmo aspettarci Darmian. Andiamo magari su Darmian sicuramente, Danfis solo con copertura. Di Marco è partito dalla panchina, ha giocato Gosens, per cui vi dico no a Gosens, sì a Di Marco per questo turno. Attenzione alle condizioni di Barella e anche di Akancianoglu. I due hanno avuto qualche problema fisico, nulla di grave, due o tre giorni di stop, e rientrano subito a lavorare per il Verona, quindi ci saranno contro il Verona? è un punto interrogativo, perché si allereano nei giorni precedenti alla partita. Mkhitaryan, prestazione oscena nell'ultima gara, non mi è piaciuto per nulla, va valutato in questo caso in base alle alternative. In attacco, qui ci dicono Dzeko, Lautaro, Martinez, guardando la Coppa Italia io direi forse un Dzeko, Lukaku, comunque i tre, Dzeko, Lukaku, Lautaro, per me sono tre attaccanti che meritano la nostra fiducia in questo momento. Passiamo a Sassuolo contro Lazio, due squadre che non vivono sicuramente un buon momento. Il Sassuolo ha perso le ultime tre di campionato, ha iniziato questo 2023 nel peggiore dei modi con due sconfitte. Per la Lazio le cose non è che vi vadano così tanto meglio, visto che ha perso contro il Lecce, a Lecce il rimonta, ed è stato rimontato anche in casa, dall'Empoli, però in questo caso con un pareggio da 2-0 a 2-2. Momenti di forma quindi abbastanza simili, due squadre sicuramente non in fiducia, due squadre anche simili dal possibile rendimento al fantacalcio perché sono due squadre con tanti bonus in canna. Al fantacalcio cosa fare? I giocatori di El Sassuolo dalla cintola in su, sì, dalla cintola in giù, no, quindi no ai difensori. Centrocampisti, Frattesi e Traorè, per me, sono promossi, promosso sicuramente, Berardi, Lauriente, ci sono attaccanti migliori soprattutto se cerchiamo il gol, Pinamonti, può anche starci, ma per me va valutato in base alle alternative. Non è un giocatore, Pinamonti, che ci dà tante certezze, non è uno da schierare senza sé e senza ma. Per quanto riguarda Lazio, sicuramente qualche certezza è più, una certezza potrebbe essere Alessio Romagnoli che in questo momento è il miglior difensore della Lazio, non ci sarà Manuel Lazzari al suo posto Isai, non do fiducia sicuramente, al difensore terzino albanese, fiducia assoluta a Milinkovic-Savic, non mettiamola in discussione perché mi stanno arrivando delle domande per quanto riguarda Milinkovic-Savic, quando si riprenderà, si riprenderà, ragazzi, non c'è nulla contro Milinkovic, attenzione, all'ultima, o meglio, la penultima, era uscito ma c'è stato un errore di comunicazione tra Sarri e i suoi collaboratori hanno fatto un po' di confusione. alla scorsa è stato anche sfortunato perché ha inventato una giocata assurda, ha preso un palo dalla lunga distanza dove nessuno avrebbe pensato al tiro e lui è riuscito anche a prendere la porta prendendo il palo. Per cui resta un giocatore fortissimo, resta un primo slot, giocatori da schierare in assoluto. Luis Alberto si parla tanto di mercato però alla fine ha giocato alla scorsa, può giocare anche a questa e lo si può schierare perché è anche un trend positivo se vado a memoria contro il Sassuolo. Per quanto riguarda poi Felipe Anderson e Zaccani Felipe Anderson è partito dalla panchina la scorsa me lo aspetto da titolare balottaggio per Zaccani ma per me entrambi vanno messi. Pedro potrebbe far bene contro il Sassuolo può essere una scommessa intrigante per questo turno valutata in base alle alternative. Ciro è mobile schierato senza sé e senza ma va messo punto. Passiamo ora a Torino contro Spezia due squadre da casa che si affrontano due squadre che hanno il rendimento migliore in casa per cui mi aspetto che il Torino faccia la partita anche in considerazione dello Spezia che non fa benissimo fuori casa per cui fiducia tanta fiducia nel Toro. Attenzione a Scurs Rodriguez e Buongiorno dovrebbe essere questa la dipesa titolare possono far tutti bene portando tutti il loro solito 6 e soprattutto Schurz anche un qualcosa in più come un 6,5 fuori Lazaro per infortunio torna Singo con Voivodà sugli esterni per me sono promossi li abbiamo ancora nelle nostre rose devono riscattarsi assolutamente anche il prima possibile Lukic da rigorista ci può stare schierarlo fiducia a Miran Cukhe Blasic attenzione a Radonic perché dovrebbe partire dalla panchina va valutata in base alle alternative e se va schierato se lo andate a schierare meglio va messo con copertura Sanabria segnata all'ultima buon momento di forma perché l'ho visto veramente bene e lo confermo per quanto riguarda lo Spezia do fiducia agli esterni centrocampo Olm Reza a bastoni con altro fuori ruolo eventualmente si potrebbe dare fiducia ad Ampadu se va a giocare a centrocampo ma non voglio strafare con lo Spezia quindi non ve lo vado a consigliare al 100% vado poi dritto su un bala in attacco che è un po' la certezza di questa squadra passiamo ad Udinese contro Bologna due squadre che non stanno facendo benissimo e il Bologna non ha iniziato il 2023 col piede giusto con due sconfitte l'Udinese invece un solo punto in due partite ma in particolare il momento negativo dell'Udinese non è iniziato in questo momento visto che non vince una partita da nove gare se non vince questa sono 10 partite senza vittorie per cui potrebbe tornare questa Udinese a vincere anche per il nostro fantacalcio dopo una partenza veramente super attenzione magari soprattutto in attacco al possibile ritorno di Deolofeu che per me va schierato ma con copertura perché ancora non garantisce il voto dall'inizio visto che è iniziata ad allenarsi questa settimana sicuramente però partiamo dalla difesa fiducia a Rodrigo Becao possiamo dar fiducia anche a Bijol che è un giocatore che sa colpire di testa e ce l'ha dimostrato più volte quest'anno è sicuramente anche Udogi per quanto riguarda il centrocampo fiducia assoluta a Pereira ma diamo fiducia anche a Lopric fiducia sicuramente anche a Beto in attacco e possiamo promuovere anche Sussex non dico che possa far gol perché non è un giocatore storicamente da gol però in considerazione di un possibile bonus come un assist va schierato per quanto riguarda il Bologna fiducia in difesa al solo posh Somaro e Lucumio onestamente non mi piacciono e non stanno facendo bene fiducia al centrocampo a Orsolini che in questo momento è un fedelissimo di Tiago Motta è rinato sotto la sua guida fiducia a Ferguson che è comunque un giocatore che fa bene e possiamo dar fiducia anche a Roberto Soriano che sta tornando ad ingranare e sta giocando nuovamente su buoni livelli anche se gli sta mancando il bonus andiamo ora alla partita di domenica ore 18 Atalanta contro Salernitana partiamo dalla Dea che ha vinto l'ultima gara contro il Bologna e rimonta per 2-1 qualcosa ancora da rivedere in difesa dove infatti l'unico schierabile fra i difensori centrali è Rafa Toloi non andiamo a rischiare oltre anche perché De Miral non sta ancora benissimo e comunque l'attacco della Salernitana per me è un attacco pericoloso esterno di centrocampo possibili Atebor Zappacosta potrebbero avere una chance però anche Mele Soppi e Ruggeri quindi tanto balottaggio comunque se dovesse essere questa la probabile formazione confermata Atebor Zappacosta sono giocatori che schiererei fiducia a Kupmener dopo l'ultimo gol della scorsa giornata non lo schieriamo pensando a un gol ma comunque batte punizioni batte corner per cui un qualcosa di buono lo può fare magari un assist fiducia a Pasavic che ha anche segnato lo scorso anno alla Salernitana così come a Dovan Zapata che lo scorso anno anche lui ha fatto gol contro la Salernitana va schierato anche perché lo abbiamo visto già la scorsa è tornato fiducia sicuramente anche a Oliund che qui non ce lo danno nella probabile formazione però un giocatore che sta terribilmente bene va schierato l'altro giocatore sicuramente da schierare che non ha giocato all'ultima è Ademola Lukman per quanto riguarda la Salernitana Ochoa è stato un ottimo portiere fin qui però il potenziale offensivo dell'Atalanta fa paura ed è veramente tanto tempo che l'Atalanta non fa più di due gol per cui potrebbe essere questo il turno anche in considerazione del fatto che la difesa della Salernitana può terribilmente soffrire la fisicità ma anche la velocità degli attaccanti dell'Atalanta per cui non vi consiglio i difensori centrali dello Spezia e nemmeno l'esterno Bradaric Candreva da uomo di esperienza si potrebbe anche mettere perché se c'è un qualcosa di buono nella Salernitana può farlo sicuramente lui non schiererei Vilena perché potrebbe essersi giocato appunto il jolly goal alla scorsa però do fiducia agli attaccanti anche se in balottaggio Dia e Piontek per me sono loro i fuoriclasse della Salernitana passiamo ora Roma contro Fiorentina due squadre che possono equivalersi in questo match però da un lato può dominare la Fiorentina con il suo gioco sicuramente migliore rispetto a quello della Roma dall'altro c'è la Roma che gioca in casa all'Olimpico stadio caldo stadio caloroso che potrebbe far la differenza in ottica fante calcio chi puntare nella Roma Smalling e Mancini fra tutti i difensori meglio anche Di Selic Pellegrini Lorenzo Zaniolo sono i due centrocampisti da mettere senza troppi problemi fiducia a Di Bala e anche a Tammy Ebram che sta migliorando assegnata la scorsa non ha giocato bene devo dire la verità però comunque sta sempre facendo un qualcosa di buono nelle ultime uscite se riesce ad aggiustare un po' la mira sotto porta ad essere anche un po' più coinvolto dal gioco di squadra può rivelarsi decisivo al fantacalcio meglio tornare ad essere comunque protagonista in qualche modo al fantacalcio per quanto riguarda la Fiorentina fiducia a Milenkovic comunque perché se Ebram non è in grana lui può ben figurare tra Igor e Martini Esquarta mi aspetto Martini Esquarta titolare quindi attenzione cerchiamo di entrare nella testa in questo momento di Vincenzo Italiano dovrebbe giocare Martini Esquarta Biraghi per me si può schierare potrebbe ben figurare anche Dodò per cui attenzione non evitiamolo come la peste centrocampo buonaventura al 100% promosso promosso anche Icone che sta facendo molto molto bene attenzione Niko Gonzales è tornato ha segnato subito sul rigore diamoli fiducia anche se parte dalla panchina perché l'ho visto entrato e mi è sembrato anche abbastanza convinto bello fresco bello spumeggiante e potrebbe essere una carta anche vincente nel secondo tempo per me Kwamei e Jovic sono giocatori che tendo invece a rimandare Jovic se avessimo la certezza che giochi titolare è un conto ma questa certezza non c'è e infatti troviamo la cifra in arancione 55% balottaggio con Cabral che ha fatto anche bene nelle ultime uscite ma non lo rischierei Cabral in questo match ma soprattutto Jovic non è stato benissimo a livello fisico quindi va sicuramente valutato in questo caso in base alle alternative si può schierare sì assolutamente perché la Roma qualcosa la concede sempre e soprattutto la Fiorentina è una squadra molto molto offensiva però tendo a valutarlo in base alle alternative perché non ci sono tantissime certezze passiamo ora all'ultima partita Empoli contro Sampdoria gara di lunedì purtroppo e ricordiamo che giochiamo il venerdì per cui se volete anche una mano per vincere questa giornata mi raccomando ragazzi a like per questo turno stress dal venerdì al lunedì gara complicata dalla difficile interpretazione anche a causa delle basse informazioni che abbiamo in questo momento sulle due squadre visto che comunque ricordiamo consegniamo il venerdì la Samp è partita secondo me col piglio giusto questo 2023 ha vinto la prima ha perso contro il Napoli ma comunque vedo una squadra sicuramente più convinta rispetto al finale del 2022 l'Empoli comunque viene da un ottimo pareggio contro la Lazio Vicario per me è un buon portiere va schierato buono per il modificatore di difesa la Samp non crea tantissimo per cui può uscirne veramente molto bene può uscirne benissimo Parisi un po' come sempre può uscirne bene anche la coppia di centrali di Luperto e Ismaili soprattutto a Luperto abbiamo magari quella garanzia in più essendo anche il capitano che dovrebbe giocare questa partita quindi possiamo azzardarlo eventualmente titolare se non abbiamo nulla di meglio a centro campo faccio uno skip su Marine Grassi e Bandinelli Bandinelli di base un giocatore comunque di inserimento che può far bene però bisogna anche considerare che c'ha quel 55% di probabilità di giocare e in balottaggio quindi non dà certezza dal punto di vista della titolarità e un giocatore che non dà certezze e che gioca anche il lunedì è abbastanza rischioso per il Fantacalcio quindi cercherei sicuramente altri nomi punto su Baldanzi in questo caso puntiamo su un Bairami anche che sì come Bandinelli è a rischio forse addirittura Bandinelli può giocare da titolare per Fantacalcio.it Bairami invece no però Bairami ha un altissimo potenziale offensivo non l'ho visto benissimo nelle ultime uscite ma comunque potrebbe ben figurare si può schierare sì ma con copertura anche Satriano se decidiamo di schierarlo e si può schierare perché comunque il suo lo fa sempre non è un bomber però comunque se non si ha un'alternativa migliore è una buona scelta perché un giocatore che difficilmente prende la insufficienza grave perché comunque è uno di quelli che si impegna sul campo lo possiamo schierare ma con copertura perché anche lui è in balottaggio fiducia invece certa ha caputo tornato al bonus ma soprattutto va col detta abbelenato contro una Samp che non gli ha dato nemmeno il gioco giusto per esprimersi al meglio un giocatore che non andava messo in discussione un giocatore che sicuramente merita la seria per quanto riguarda la Samp Doria bene il nuovo acquisto Newtink non approva invece Murillo e Amione Augello si può rischiare solo perché gioca sulla linea dei centrocampisti Duricic va ammesso che è il faro tecnico di questa Samp bocciamo Sabiri visto che non dovrebbe giocare nemmeno a questa o così dicono le probabili formazioni comunque sembra che non è stato benissimo nemmeno a livello fisico oltre alla situazione Covid l'Amers col dente avvelenato contro l'Empoti si può schierare in vista di un possibile gol dell'ex ma fiducia anche a Manolo Gabbiadini che è l'altro leader di questa squadra altro leader tecnico bene ragazzi per questo turno è tutto vi ricordo di lasciare un mi piace al video se questo contenuto vi è stato utile ma soprattutto per supportarlo se non siete iscritti mi raccomando all'iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo